Aveva più volte minacciato e molestato l'ex compagna perché non riusciva ad accettare che lei avesse una relazione con un altro uomo. Un 46enne salernitano è stato denunciato per stalking dagli agenti della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Salerno, diretta dal primo dirigente Luciana Palmieri. La vicenda si è svolta a Pelleziano, dove la donna risiede col nuovo compagno. L'ex continuava a perseguitarla con telefonate ed SMS minacciosi. In una circostanza ha anche incendiato e danneggiato l'abitazione dell'attuale fidanzato della donna. Le indagini della Polizia e l'analisi dei tabulati telefonici hanno consentito di appurare che l'attività persecutoria dello stalker era iniziata nel maggio 2010. Il 46enne spesso si faceva trovare sotto casa impedendo alla sua ex di rientrare. In un'occasione aveva telefonato sul cellulare della donna, avvertendola di aver nuovamente danneggiato l'abitazione del suo attuale fidanzato e di attenderli sotto casa per dare loro una lezione. Parole minacciose e insulti pesanti, tanto da spaventare la coppia che preferì trascorrere la notte nella stazione ferroviaria. Il 46enne attualmente ha gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un familiare. A causa del precedente incendio che aveva piccato all'abitazione dell'attuale compagno della ex, è stato ora denunciato anche per molestie telefoniche, stalking e danneggiamenti.